Anche quest'anno faremo sia per i principianti che non il corso di sci. Il corso di sci è un nostro punto di forza. Volevamo ricordare che dal 13 gennaio 2019 inizieranno i corsi per 4 ore di lezione domenicali e in tutto sono 20 ore, quindi 5 domeniche. Inizia il 13 gennaio e finirà il corso il 10 febbraio. Ricordiamo la cifra irrisoria che è 150 euro il costo, naturalmente non è comprensivo di ski pass e di attrezzatura e tutti possono tranquillamente partecipare. Ricordiamo che si possono effettuare le iscrizioni da subito presso l'autoscuola Ciancarelli che è sita in via Circonvalazione Orientale a Sulmona tutti i giorni, quindi iscrivetevi e vi aspettiamo perché questo corso sci è forte, veramente. Noi il 7 di dicembre apriamo sempre la nuova stagione, ormai sono 15 anni che questa conviviale con tutti i soci e simpatizzanti è una cosa gradita e ogni anno aumenta sempre di più. Vuol dire che la nostra passione condivisa con gli altri è un bel frutto, è vero che noi lavoriamo però è solo di passione. E con questo organizziamo il corso sci perché con i ragazzi dal 13 gennaio faremo un corso con i ragazzi, da tutti per bambini e adulti, faremo la settimana bianca a Madonna di Campiglio, si farà una settimana per le famiglie, aperto sia e che giustamente per le famiglie perché andremo con la WISP nazionale dove saranno 1300 persone. E là avremo un incontro dalla Sicilia al Trentino dove condividere tutta la nostra passione. Poi ritorneremo qui perché si andrà, a parte il nostro comprensorio Roccarato, ma noi con i nostri soci li portiamo anche a Campo Felice, vorremmo portarli, li portiamo anche perché a Scanno, Campo di Giove e altre località. Quindi questa è una cosa, la passione condivisa con tutto il direttivo e tutti i nostri appassionati. Sono nel mio privato camerino della discoteca Risto Dance, si dice così, la Gomera, ormai sono di casa perché è la terza volta che vengo la Gomera, sono stufati pure le cameriere a sentirmi, ma non si sono stufati gli amici dello Sciclub con Pino e tutti gli altri. Quindi sono contento di ritornare qui dopo qualche anno per rincontrare un sacco di gente e per farci durosare. Ci si prova, il periodo è quello che è, le preoccupazioni sono tante però ci proviamo. Grazie.